Abbiamo assistito a questa bellissima e tragica testimonianza di quello che accade da tempo in Palestina e non solo dopo il 7 ottobre. Io non so quanto interessi poi la politica internazionale in genere a questo pubblico. È il mio campo. A proposito, questa è diventata una battaglia politica. Io sono un'ambasciatrice. Non mi dovete chiamare dottoressa, sapete perché? Perché ho subito un linciaggio pubblico nel quale il sindacato dei diplomatici addirittura ha detto che io ero un'usurpatrice di titoli perché la Gruber mi aveva chiamato ambasciatrice e che quindi avevo tradito i valori della Repubblica. Sembra una banalità ma non lo è. Tutti i miei colleghi uomini con lo stesso titolo, cioè che hanno servito come ambasciatori all'estero e sono andati in pensione col titolo di ministro plenipotenziali, vengono presentati da tutti i media come ambasciatori e nessuno trova niente da ridire. Siccome la sottoscritta ha criticato in termini netti la Nato e la politica occidentale in Ucraina come a Gaza, è diventata immediatamente una dottoressa che usurpava il titolo di ambasciatore e che aveva tradito i valori della Repubblica. Per questo io me ne frego dei titoli, anzi preferisco essere una scrittrice se lo volete sapere, però ormai è diventata una battaglia politica. Grazie a tutti. La causa palestinese è purtroppo la politica e la diplomazia. La comunità internazionale non esiste. Esiste l'Occidente, esistono i BRICS, esistono gli emergenti. L'Occidente, potenza egemone gli Stati Uniti, Europa oggi soprattutto con lo scoppio della guerra in Ucraina, non è una bassalla. Non ha più alcuna autonomia in politica estera. Un tempo, anche se Craxi e Andreotti non erano mai cup of tea, però che differenza? No, Andreotti e Craxi avevano una politica nel Mediterraneo. Oggi sembra impossibile perché abbiamo la cosiddetta nazione indispensabile che sta dando questo spettacolo di democrazia in queste preelezioni, che poi c'è questo show vergognoso tra Trump e Harris, che come sappiamo al netto della retorica non fanno la differenza a Gaza, in Cisgiordania, in Palestina. Però, io credo che bisogna fare le distinzioni e quindi bisogna distinguere, anche se anche io sono contraria al progetto sionista sin dall'inizio, credo come Monio Vadia che la spiritualità ebraica sia stata, perché c'è stata una spiritualità ebraica, non dobbiamo confondere Israele con la diaspora. La diaspora e gli ebrei sono tante persone diverse, Monia Ovadia è un ebreo, Finkelstein è un ebreo, Ilan Papp è un ebreo, quindi stiamo attenti veramente a non cadere nella trappola, perché qual è la trappola dei media mainstream? Che appena si cerca di difendere la causa palestinese, immediatamente si diventa antisemiti, è quello che hanno detto di Francesca Albanese, mi dispiace io non c'ero quando c'è stato il suo intervento, e che mi avrebbe fatto piacere ascoltare, perché la stimo come le voci che, arrivate in televisione, non si sono modulate a seconda del giornalista, ma hanno avuto la forza e il coraggio di ribadire la verità. Però la trappola è questa, quando per esempio io capisco l'indignazione e alla fine si dice no perché Hamas deve ricacciare via Israele, ecco io capisco l'indignazione, però penso che così ci diamo la zappa sui piedi. Noi non dobbiamo cadere nella trappola, non possono dire che Hamas è come lo stato terrorista e che soprattutto le manifestazioni dei giovani a favore della Palestina sono esattamente comparabili alla politica Israele. Israele vuole cacciarli, sì è vero, ma perché loro non vogliono cacciare Israele? E no, la situazione è completamente diversa, perché anche nella storia di Israele, che hai ragione, comincia con una violenza terribile, la Nakba, la catastrofe, però in questa storia purtroppo la politica è fatta anche di distinzioni, di sottigliezze, dobbiamo distinguere anche una sinistra che all'inizio sembrava voler veramente negoziare il ritiro dai territori occupati per la sicurezza. Allora, guardate, io nel libro tutto il secondo capitolo, forse il più lungo, è dedicato alla ricostruzione, spero, oggettiva del conflitto israelo-palestinese che è un fallimento della politica internazionale. Perché dico questo? Sarebbe facile ora adeguarmi al clima e sparare forte anch'io, perché ho questa nota cauta che certamente in televisione con formigli non ho avuto. perché io credo che per credere nella causa palestinese noi dobbiamo credere nella diplomazia e nella politica e quindi dobbiamo ancora difendere o uno Stato democratico, certamente non ebraico, che riconosca quindi, nonostante il divario demografico, sia gli israeliani che i palestinesi, oppure la soluzione dei due Stati che, come sapete, ancora una volta è stata presentata alle Nazioni Unite. Ora, è vero che hanno distrutto il territorio nel quale poteva nascere lo Stato di Palestina e che i coloni sono andati avanti, sono responsabili di atrocità vergognose e che tutti i presidenti americani, anche lo stesso Obama, che pure qualcosa ci aveva fatto sperare, non hanno saputo fare niente, solo retorica. I democratici fanno solo retorica, ma non c'è mai stato un piano B, non ci sono mai state le sanzioni. E quindi Israele ha le critiche, che non è la comunità occidentale, dell'Occidente, dell'America e dell'Europa, perché anche Borrell, l'alto rappresentante della politica estero-europea, cerca di dire qualcosa a favore della Palestina e di critica ad Israele. Però, perché retorica? Perché poi di fatto, quando si deve votare una risoluzione alle Nazioni Unite, noi abbiamo la Russia che vota per il cessato e il fuoco permanente, abbiamo la Cina, abbiamo gli emergenti, abbiamo l'Iran, abbiamo gli Stati Arabi, abbiamo la Turchia. Chi si oppone? Gli Stati Uniti, il nostro governo, purtroppo una donna, una donna, la Presidente Meloni e del resto un'altra donna, la von der Leyen, Presidente della Commissione, che sta distruggendo quello che un tempo doveva essere il pilastro della sovranità europea. Entrambe queste donne non fanno onore al genere femminile, perché sono state le prime a esprimere solidarietà a Israele e ancora non gliela tolgono, non gliela tolgono dopo un genocidio in corso a Gaza, e non lo dico io, non lo diciamo noi che veniamo considerati filo a massa, lo dice la Corte Internazionale di Giustizia, che ha chiesto a Israele di portare fatti in base ai quali questo genocidio veniva evitato, quindi l'ha considerato plausibile. Perché non ha condannato per genocidio? Non lo poteva fare. C'è un iter troppo lungo, non poteva esprimere un giudizio così forte, è contrastato, potete immaginare quanto, a livello internazionale, per cui ha cercato quella che noi chiamiamo l'ambiguità costruttiva in diplomazia e ha detto bene, allora vieni a dimostrare come stai evitando il genocidio. Quindi l'ha considerato plausibile. Questo lo dico perché purtroppo anche tantissime brave persone che difendono la causa palestinese, poi molte volte di fronte al genocidio, io ho scritto sul fatto genocidio, e sono stata richiamata all'ordine, ci sono ancora opinioni diverse. Ora, che volevo dire? Che la mia speranza è che la politica non abbandoni la Palestina. è già importante che al vertice dei BRICS, a Kazan, in Russia, voi lo sapete che la Russia è presidente di questo, sapete che sono i BRICS, io non so quanto interesse c'è per la politica internazionale. Comunque i BRICS sono, ormai stiamo vivendo una tendenza oggettiva verso il mondo unipolare, e quindi nel 2010, con le iniziali dei vari stati, è nato questo raggruppamento di paesi molto diversi, tra loro dalla Cina all'India, che sono anche dei contendenti geopolitici, al Sud Africa, alla Russia, e ci sono state ormai le richieste, si conta la richiesta, se non sbaglio, di 30 adesioni che saranno valutate a Kazan. Vi dico solo questo, che il G7 economicamente non ha la forza economica dei BRICS. e la Palestina sarà rappresentata ai BRICS. Questo significa che la Russia e la Cina rischieranno la terza guerra mondiale per la Palestina? No, non ci illudiamo. Però è importante, è importante che ci sia un mondo multipolare che si stia muovendo contro gli Stati Uniti, che hanno in Israele la loro base militare in Medio Oriente. In più, come è stato detto, la lobby di Israele impedisce... Guardi, se anche noi avessimo... Pensate a Kennedy, no? Kennedy, il candidato Kennedy, ha fatto dei discorsi sull'Ucraina che non erano niente male. Ha avuto il coraggio di raccontare quello che i media non raccontano. Perché nel libro L'Occidente è il nemico permanente, che non so se i giovani leggeranno mai, a me farebbe piacere, non perché metto soldi in tasca, ma perché mi fa piacere che i giovani si interessino anche alla politica internazionale, non esprimano solo un'indignazione morale. E in questo libro ricostruisco anche il conflitto russo-ucraino, perché vedete, le cose devono essere messe insieme, la sinistra non sempre lo fa. E purtroppo c'è tanta propaganda, tante menzogne, e quindi per me era importante demistificare e parlare delle vere cause di questo conflitto. E allo stesso modo ho fatto col conflitto israelo-palestinese. Ora, è importante che alcuni paesi, forti paesi, abbiano il coraggio di sostenere un linguaggio differente e difendere la causa palestinese. L'Europa, come ho detto, purtroppo l'Europa innanzitutto non ha una politica estera autonoma, ha dimenticato la mediazione addirittura in casa propria, perché guardate, la guerra russo-ucraina ha separato l'Europa dalla Russia con i costi economici che vedete anche voi. La Germania è in recessione, l'America cresce al 3% e le bollette della luce, ma le imprese, la disoccupazione aumentano. E l'Europa non è stata capace di dire una parola. In Medio Oriente, anche se tutta l'Europa Mediterranea ha dei forti interessi, ancora di più l'Europa è stata inesistente. Ma questo perché abbiamo una lobby di Israele, io non la chiamo lobby ebraica, la lobby di Israele, che è formata anche da donatori cristiani, che ha il potere di condizionare la politica statunitense e anche quella europea. Quella europea veramente la condizionano soprattutto gli Stati Uniti. Io ho sempre detto, non solo in diplomazia non si può far carriera se non si è filoamericani, ma dappertutto. I rettori non possono essere filoamericani, perché se no non diventano rettori. Un direttore del giornale più letto non può diventare direttore del giornale più letto se non è filoamericano, va bene? E la lobby di Israele ha lo stesso potere per quel che riguarda le carriere politiche della classe dirigente americana, ma non solo politiche. Jeffrey Sachs, consigliere delle Nazioni Unite, e consigliere di Gorbachev, ma anche dell'amministrazione americana, ha fatto una lista, non solo dei politici, ma dei liberi professionisti, dei rettori di università, che sono stati fatti fuori perché avevano preso le distanze da Israele. Quindi questa lobby che condiziona la politica americana ha reso Israele capace di condizionare anche contro gli interessi americani. Pensate ora, l'Israele sta facendo scempio anche il Libano. Gli Hezbollah avevano cercato, con le loro rimostranze, forse con una strategia non so quanto condivisibile, ma di far sentire che i palestinesi non erano soli. E Netanyahu, che tra parentesi ha bisogno della guerra per la sua sopravvivenza politica, se no finisce come uomo politico, pensate che vergogna. Da una parte l'ambizione di un politico, dall'altra morte, distruzione, tortura. E noi sopportiamo tutto questo. è l'Occidente complice di questo genocidio vergognoso. Quindi stavo dicendo, purtroppo Kennedy ha parlato contro l'Ucraina, ma contro Israele non ha detto niente. Perché? Perché altrimenti la sua carriera politica era finita, si era presentato come candidato. e quindi questa è la realtà nella quale noi ci muoviamo. Cosa potremmo fare? Beh, la pubblica opinione ancora conta. Finché ci fanno parlare, finché c'è un movimento di giovani che manifesta, lo so che è difficile, tant'è vero che la repressione è stata brutale, però ce ne dovrebbero essere ancora di manifestazioni, questa è l'unica cosa che possiamo fare, testimonianza, federazione di tutto il dissenso, capire che quello che sta accadendo in Israele non è molto lontano da quello che sta accadendo in Ucraina. I fattori economici che portano l'Occidente a queste guerre sono gli stessi, è la militarizzazione del dollaro. Però dicevo, anche quando Israele è contrario agli interessi americani, pensate un po' ai democratici, se dopo la guerra in Ucraina vogliono essere coinvolti in una guerra che potrebbe essere un conflitto allargato in Medio Oriente, Libano, Iran, beh no, non vogliono, eppure è Israele che decide, grazie alla lobby che condiziona la politica americana. Ora di queste cose voi non sentite mai parlare sui media, in televisione, nei talk show, non si possono dire queste cose, viene cacciati come sono stata cacciata io, anzi no, io me ne sono andata, dicendo a Formigli che mi aveva implorato il che era vero per andare in quella trasmissione. insomma, io non posso dare molta speranza quando prima veniva detto siamo soli, dobbiamo contare solo sulle nostre forze, però credo che bisogna far politica e bisogna coinvolgere le diverse forze del dissenso e capire che la lotta per la Palestina è una lotta contro l'imperialismo americano oltre che il sionismo colonialista, è una lotta contro la militarizzazione del dollaro, è una lotta contro questo slittamento dal liberalismo al liberalismo autoritario, contro la fine della democrazia che possiamo star vivendo, basti pensare al decreto sicurezza che la Meloni viene appena partorito. Quindi cerchiamo di fare connessioni e naturalmente magari ci fosse un movimento trasnazionale in Europa, le classi dirigenti europee oggi non sono in grado di fare né diplomazia né politica, però la nostra speranza è un'opposizione già al fatto che ora abbiamo io lo dico il movimento 5 stelle io sono andata sia da loro sia da Santoro sia da democrazia sovrana ai rossobruni sia da rifondazione comunista da tutto il dissenso e naturalmente dalle manifestazioni palestinesi per me è importante metterci la faccia perché credo che questo dissenso questa militanza io ho conosciuto una società civile bellissima devo dire di persone oneste capaci tra gli affanni della routine del lavoro la mancanza dei soldi dedicare delle ore a delle cause perciò oggi sto qui per esprimere questo mio rispetto alla militanza e per essere con voi